Musica Ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video Video interessantissimo ragazzi Perché? Perché forse Non voglio gufarmela Forse Così non faccio un cheat Faremo diventare finalmente il nostro account Full red Più viola Rosso con viola Che colore dà fuori? Il marrone Allora no Un account di Morda Viola e rosso Danno marrone in teoria Faremo un account di Morda allora no Vabbè Faremo l'account di Morda Facendo Crow forse A rank 30 Forse Io ci spero Incrocio le dita E Startiamo con la prima partita Sono con il bot di Mauri E il bot di Tommy Flower E dato che mi ci becchi Dura abbastanza tempo Noi ci beccheremo sempre Quando inizieranno le partite Sia È iniziata la prima partita boys E vedrete che sarà persa Le abbiamo mette tutte fino ad ora A meno che Non ci concentriamo Giochiamo bene come prima Poi io faccio l'appello A quelli della Della mia live Se vogliono anche incontrarmi Per apparire nel video Perché no La palla fra la palla La palla Ma come sei morto tutto Riff aggressivo Dai Che due balli Non mi prende mai la palla Non me l'aggancia Vai Dai Madonna Sarà persa Trovata Questa ne sono sicuro Ragazzi Sarà persa Perché la troviamo Sveglia Tommy Please 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 Non voglio registrare Ah fra lì Dovevi segnare Lì dovevi segnare Eh va bene Non lo so Ho giustato il futuro È bene adesso Eh infatti E devi continuare Mi direi di continuare Mi direi di continuare Vedi che ci hanno un po' Ciò morti Ok Forse il volume è un po' Troppo alto Ok Aia Aia Ma Ho sprecato anche il gadget Guarda a destra Io non grabberai un poco Con la cura Maury I think it's useless Bro Ma quella non la si ferma Ok Eh vabbè Eh però Vabbè Se si apre Fra direi che siamo A più vantaggio No Ma quando si apre Vuole vedere che problema diventa Vabbè L'account di color merda Let's go Ok iniziata la seconda partita Rega Siamo Non dico nulla dai Proviamo a concentrarci E vincere anche questa Su 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 Flash pro fra Però ce la puoi lasciare no? Se spinni Ce la lasciano? Sì Perché fa tutto die fra Non giocate le partite Ma no ma sono miei fan Me la lasciano a posto Ma ti svegli Tommy non è che se tu non hai fan Ti devi lamentare Va bene La gente mi vuole Io li ringrazio Grazie mille Profra e E Anubis vero? Sì Anubis Grazie mille Grazie boys Let's go boys Let's go E dato che siamo in Tema Snipe Ringrazio anche Kriking Che prima che iniziassi A registrare il video Mi aveva sniperato Eccolo qua Grazie Kriking Grazie mille Let's go Mancano Due Due Fra mille preciso forse Però bisogna vincere Quindi Ci becchiamo quando inizia la partita Ok Ok E' iniziata Ok E' iniziata Andiamo Focus focus Ok Questi hanno una comp già più buona E' iniziata Ehi Devo tenere dietro Pampra La cicciona E te vai mid Lascia andare lui No Non so Quanto sia stato utile Quello Grazie Ok 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 Ho sopravvissuto Oh wow Utilizza del gadget Prega Questa è tosta Questa Questa va sudata Andiamo Metti pure il tuo gadget Fiscioso Ok Perfetto Guarda dovrebbe entrare lui Se vuole Perfetto Manteniamo il vantaggio Mi raccomando Non c'è bisogno che corriamo Ok Sandy ha switchato Molto bene Madonna mia Buono 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 Io non ho più gadget però Aia Eccolo Il gadget Non l'avrei usato Maury Può servirci un sacco In difesa Forse ne ha un altro Però Forse ne ha altri due Addirittura Ok Ok Molto bella Questa kill Ci sta 15 secondi 15 secondi Stai zitto Che è meglio per te Guarda Ti giuro parte un meme Se il tuo easy È un fake Perfetto Ne manca una Rega All'account color murder È iniziata Forse l'ultima partita Aia Sono forti Occhio Occhio Questi sono bravini Bisogna focusarsi Ok Focusarsi Ok Vieni qua Sì Ma è brutto Dietro Dietro Bravi Ok Non corriamo Ok Non corriamo Già c'è di inser Oh Nice Nice Let's do it again oh Si cavolo Basta Finalmente Ma non sei te Cos'è Simone Mannello Si Regà Ci tengo solamente a dire che questo account Era un secondario Cioè aveva i brawler massimo Rank 20 Questo vi dimostra che tutto è possibile Se voi avete voglia Io ovviamente ero costretto a giocare su questo account Perché il mio principale è stato bannato E guardate in che condizioni si trova Finalmente questo account Io vi dico solo Se voi ci mettete voglia Guardate anche il record per dire E siamo anche quasi arrivati a 12.000 win 3v3 Su questo account Più le 30.000 dell'altra 42.000 Madonna Video top ragazzi Quindi dovete spaccarlo di like Mi raccomando Mi fido di voi Io ringrazio Tommy e Mauro Che mi hanno aiutato a portare Questo piccione A rank 30 Che è 35 E aver fatto l'account di color morda Quindi sono felice E niente Io vi ringrazio per aver seguito il video Mi raccomando Spaccate like Come vi ho chiesto a inizio il video Seguiti tutti i link in descrizione Iscrivetevi Noi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Noi ci vediamo al prossimo video